io continuerei a salire anche perchè la su ho visto che c'è un edificio un edificio wow hanno costruito eh chasm a me sa che non ci possa arrivare però da qui da di qua si da di qua si oh no 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 ma cazzo Si Ok Chi è? Chi è quello? Chi è quello? Forse era un'allucinazione, si Come quella di prima Musica Musica Parla ancora di questi fuochi verdi E degli esperimenti che stanno facendo Hanno aumentato ovviamente il voltaggio dei generatori inizialmente e poi l'hanno riportato normale Ma il risultato è non si è illegibile Armi nucleari sono come le mazze dei barbari Comparate al potenziale scientifico che abbiamo visto qui Quindi Spegniamo la torcina Seguiamola 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 Ok Ah no ho sbagliato Ok E' anche un po' jump simulator Allora Qui è? Ora lì non siamo Oh Antenna Rieccola E' di nuovo E' di nuovo E' di nuovo Bello il riflesso sul casco comunque E' sta ferma lassù eh Quindi L'acqua E' di nuovo Ok. E' ferma lassù. Ma che sta a fare lassù? Non so neanche se sto andando nella direzione giusta. Ok. Sì. Sì. Sì laggiù c'è qualcosa che emette l'uccichio quindi penso che sia la strada giusta. Garnets. Le analisi iniziali indicano almandine or garnets in amica schist. Sembrano elementi insomma materiali. Tipico dei minerali infatti che si formano in profondità nel sottosuolo a pressioni veramente alte. Ok. E' confermata attività tettonica quindi terremoto se non erro nella crosta di questo pianeta che può contribuire allo sviluppo della vita. In poche parole. Sì. 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 Arta è sopra il filo. si scende il riflesso sul casco è qualcosa di strabilioso qui sale? si muy bien ossigeno spero ah per questo c'ho il salto più alto